Crono Juventus Titanium Personalizzato con l'incisione delle iniziali Un giorno sarà tuo Automatico, 25 rubini, Swiss made, con cassa e bracciale in titanio Realizzato in soli 2013 esemplari numerati Affrettati perché siamo milioni Chiama ora il numero verde gratuito 800 514 514 Crono FC Juventus Titanium Forgiato per la vittoria